Il G4 è un Caterpillar da 15 totellate 15 totellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso mi farà vedere cosa si può fare con un mezzo così pesante e davvero poco versante guardatelo qua, allora, grazie allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto dovete metterlo a posto, Armando viene su commissione, entra a due ruote non ve ne accorgete neanche quindi naturalmente per i partiti più piccoli lì ha il Caterpillar il Caterpillar il Caterpillar, il Caterpillar il Caterpillar, il Caterpillar il Caterpillar, il Caterpillar piccolo 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 va bene, grande Armando intanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive come radio di supporto di tutto l'evento noi tre vincere siamo qua sul palco in terreno che veniamo fino a domenica ovviamente ci atteneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle discipline ci saranno qua al Motolive dietro a noi, dietro al palco si è posizionato il nostro studio non è un po' di cose qui è possibile ma